ciao amici ben ritrovati di nuovo nella mia cucina oggi facciamo questa ricetta questa ricetta è molto facile ma viene fatta in due tempi ossia in due giorni un petto di pollo con marinatura una marinatura molto facile con tante spezie ossia l'alloro del pepe rosa pepe nero rosmarino sale olio e limone eccolo qua petto di pollo l'ho tolto dal frigo mezz'ora prima di portarlo sulla griglia poi tutto questo condimento che vedete lo dobbiamo rimettere quando la carne è tutta cotta se questo petto di pollo vi rimane non c'è problema il giorno dopo è ancora più buono eccolo in quatt'ora aggiungiamo del sale man mano che si cuoce lo mettiamo qua nella pentola ad insaporire con la sua salsa fino al termine del petto di pollo il nostro petto di pollo è pronto adesso mettiamo la rimanente salsa sopra e facciamo insaporire ancora un pochino eccolo qua pronto pronto da mangiare eccolo qua eccolo qua